Banjo! Che cos'hai? Dov'è la mamma? Qua ti è successo? Vieni! Chris, guarda! Che cosa? Banjo dice che sua mamma è stronza, cattiva e figlia di puttana e vuole venire via con noi. Oh, no, no, non è corretto nei confronti di Anne e Janice. Banjo, che dice? Ci importa essere corretti? No, a noi ci importa solo essere felici. Guarda che roba mi tocca fare, per amor tuo. Eccoci qua. Resta! Fatti scappare una sola parola e... Vai, 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 vai! Vai, vai, Chris! Vai, vai, vai! Vai! Oh, no, Chris, c'è Janice! No! No! Banjo! Banjo! Sta giù, Banjo! Ian! Ian! Ian!